22 marzo 22 si allarga la famiglia che strana sensazione e senza neanche avere il preavviso del pancione ti chiedo che ne pensi e nel tempo di un vabbè da due sorelle piccole te ne ritrovi tre in prima la faccenda è per tutti imbarazzante ma ecco poco a poco diventa stimolante se prima la presenza era un po un camaleonte a suon di mazza e pietre ci troviamo a metà ponte non so se sorellina ti stiamo facendo bene se sei più rilassata e ridi un po più spesso non so se a volte senti di essere in catene so sol che io da allora da parti dubbi omesso ti stimo a fiducia in te e poi ti voglio bene e spero tutto questo di avertelo trasmesso